Ciao carissimi, un po' di ultime notizie, così giusto per raccontare qualcosa che magari non viene raccontato, approfondito in maniera particolare dai nostri media e anche per essere al corrente di ciò che accade nel mondo, nella nostra bella Europa, così faccio dei miei commenti Perdonatemi se magari un po' tiro fuori qualche ironia per non essere proprio triste Comincio con una notizia importantissima, tra virgolette La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è sconvolta, il lupo ha ucciso il suo pony preferito La von der Leyen, che rappresenta quel sistema che si piega, che ha piegato al potere dei banchieri, dei finanzieri Quindi c'è tutta questa cricca corrotta dei personaggi che attraverso i soldi dominano il mondo e rendono schiavi tutti quanti Ovviamente lei è una signora benestante, perché ha dei pony, dei cavalli, non so cosa ha ancora C'avrà un dinosauro, io posso solo immaginare Comunque Von der Leyen è sconvolta perché il lupo è arrivato dal bosco, cattivo lupo, e ha mangiato Poverino il suo pony, mi dispiace per il pony Spero che non ha sofferto questo povero animale, spero che è morto abbastanza veloce Comunque io sono sicuro che adesso la propaganda della von der Leyen, propaganda atlantista dirà che il lupo è stato mandato dai servizi segreti russi Che era un lupo kgbista addestrato personalmente da Putin per attaccare il povero pony di von der Leyen Von der Leyen comunque è una persona vergognosa In realtà mi dispiace per suo pony, sono sicuro che pony era molto meglio di lei Ma von der Leyen è una persona che fa di tutto perché questa guerra terribile che noi abbiamo cominciato a vedere a scoppiare già nel 2014 Lei ha fatto tutto perché questa guerra vada avanti, che l'Ucraina sempre di più entra in questa spirale di violenza, di odio Ovviamente non ha fatto niente per instaurare un rapporto pacifico, un rapporto diplomatico con la Russia, con l'Ucraina, magari anche con Belorussia Insomma ci troviamo tutti sullo stesso continente, non dobbiamo litigare, dobbiamo trovare via l'incontro Invece von der Leyen è stata sempre aggressiva e continua ad essere sempre aggressiva Un'altra notizia, la Commissione europea ha definito il blocco del gasdotto Nord Stream un'azione cinica della Russia Cioè i russi hanno detto, ma noi chiudiamo questo gas perché voi non ci volete bene Voi mandate le armi all'Ucraina, voi state sostenendo i nazisti Voi ci fate queste sanzioni che tra l'altro colpiscono voi stessi Siete dei masochisti, siete dei pervertiti Noi non vogliamo avere niente a che fare con voi Noi cominciamo a commerciare con la Cina che ci piace di più Il ministro dell'economia cinese di recente ha fatto una bellissima dichiarazione Tra l'altro c'aveva una faccia, questo cinese erano gli occhi chiusi Aveva gli occhi chiusi da quanto era felice, era tutto così Perché ha detto, noi con la Russia abbiamo fatto 200 miliardi di dollari quest'anno Di giro di affari e l'anno prossimo lo aumentiamo a 400 miliardi Con i 400 miliardi la Russia aveva un giro di affari con l'Europa Se non sbaglio erano 460 miliardi d'anno Quindi quando io dicevo all'inizio dell'anno Che i russi si apriranno un loro mercato con l'Asia E tanta gente mi diceva, ma no, ma è impossibile, non sarà mai Ma la Russia, ma tutto quello che le dà Europa non atterrà mai dalla Cina Guardate, solo con la Cina avranno 400 miliardi E questo vedrete che accadrà così Solo con la Cina avranno 400 miliardi Poi c'è Pakistan, c'è l'India Poi ci sono tutti i paesi, insomma, asiatici Insomma, i russi faranno tutti i soldi là E noi saremo qua a scaldare le mani Con quel che resta delle nostre foreste Ascoltando le balle di Wonderline Che ci racconterà anche com'è morto il suo pony Mangiato da un lupo kgbista Però per la Commissione Europea Quando Commissione Europea mi parla del cinismo È veramente una roba allucinante Come un serial killer che vi racconterà Che vi punta il dito, non lo so Contro uno che ruba il supermercato E dirà, ma guardate che bastardo disonesto Questo qua ha rubato al supermercato un pacco di pasta Cioè, quando un serial killer te lo dice È una cosa ipocrita E quindi la Commissione Europea è ipocrita Quando parla del cinismo Perché Commissione Europea è tutta questa banda Di tecnocrati Tutti questi burocrati Che alimentano odio Che alimentano la guerra Che non hanno fatto niente Niente, zero Per creare un rapporto diplomatico Per placare questa situazione disastrosa Nella quale siamo precipitati Per colpa loro Perché si aspettava solo da loro Un gesto di diplomazia E loro non l'hanno fatto Sono andati subito a fare spadaccini Ora, loro parlano del cinismo Perché Russia li spende gas Scusate ragazzi Voi siete al decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia Voi state creando una russofobia Che è senza precedenti Cioè, persino Dostoevsky se l'ha presa da voi Per colpa vostra I vostri politici I vostri persone che sono legati a voi Cioè, i democratici Tirano fuori le cose Che manco i nazisti Nel tempo di perseguizione di ebrei Si permettevano di dire E adesso voi mi parlate Del fatto che i russi Vedevano mandare i gas Ma per cosa? Perché? Cioè, quali sono le basi di partnership? Putin nel 2007 ha dichiarato chiaramente E ha detto Noi non vogliamo essere sudditi Noi vogliamo essere collaboratori e partner Se ci volete trattare come partner Noi ci siamo Vi diamo gas Vi diamo tutto quello che volete Ma non trattateci con i sudditi Noi non siamo i vostri sudditi Invece La Commissione Europea Pensa di essere ancora quei colonialisti Con gli elmi bianchi Che vadano dai popoli Sottosviluppati E insegnano a tutti come devono vivere Ma non è così Devono scendere dal piedistallo Secondo me adesso scenderanno Perché quel piedistallo dovranno rompere E questo piedistallo Su quale stanno adesso Andrà bruciato questo inverno Nelle stufe per scaldarsi Comunque Questa Commissione Europea Dice che i russi Sono comportati in maniera cinica Dopo che loro Hanno fatto dieci pacchetti di sanzioni Contro la Russia Dopo le leggi Dopo le diffamazioni Dopo le leggi Che impediscono ai russi Di entrare in Europa Dopo tutto questo schifoso Mandare gli armi E sostenere il nazismo I russi sono cinici Vabbè Biden Nostro caro vecchio Biden Ha dichiarato Che Ucraina Non riuscirà Nemmeno far partire Il riscaldamento Quest'anno Quindi Il vecchietto a Washington Si preoccupa Del riscaldamento Ucraino Quindi cari ucraini Preoccupatevi Perché questo qua Saluta Le persone inesistenti È uno che si trova Veramente a un livello Penoso E sarà lui a preoccuparsi Di come voi passerete L'inverno Quindi secondo me Dovete Seriamente Cominciare a preparare La legna Cercare da qualche parte Carbone Perché Aspettare qualcosa Da Biden È abbastanza Inutile Un'altra notizia Bellissima Ragazzi C'è una cosa Allucinante Dai supermercati tedeschi Sparisce la Coca Cola Fanta e Sprite Non ci sono più In alcuni supermercati tedeschi C'è una grande catena Dei supermercati Se non mi ricordo Come si chiama Proprio ha tolto fuori Dalla vendita Questi tre prodotti E il capo Di questa catena Ha spiegato questa cosa Ha fatto l'intervista Che è passata anche Allo Spiegel Insomma A grandi Grande stampa Della Germania E lui nell'intervista Ha detto Noi togliamo questi prodotti Di queste catene Multinazionali Perché Il loro prezzo È salito Troppo Secondo noi Ha superato Un livello Etico Secondo noi Una bevanda gasata Non deve costare Così tanto Questi sono tedeschi Sono serie I tedeschi Non fanno le cose Non fanno bagianate Così A caso Loro dicono Le cose come stanno Loro dicono Secondo noi Non è etico Vendere nei supermercati I prodotti Che cominciano a diventare Gli elementi di lusso Mentre loro Mentre questi sono Le bevande gasate E basta E quindi hanno tolto Coca Cola Fanta e Sprite Perché dal primo settembre I produttori di Coca Cola Fanta e Sprite Questi simpatici Multinazionali Che ci rompono Le scatole Già da anni Che fanno le cose Contro la natura Che distruggono L'ambiente Che maltrattano I dipendenti E poi vendono Le loro schifezze Che gente beve E poi sta male Perché comunque Queste robe qua Dovrebbero essere Vietate queste robe qua Dal Ministero della Salute Però Comunque noi viviamo Nel mondo libero Mercato libero Si può vendere anche Non so Anche i vileni Come questi I tedeschi Dicono noi Questi bevande Le togliamo fuori Dai supermercati Perché dal primo settembre Il loro prezzo Ha aumentato In maniera spropositata E perché è aumentato Prezzo Perché la produzione Costa Perché elettricità Costa Perché hanno fatto Sanzioni alla Russia Perché volevano Fare gradarsi Perché volevano Insomma Far vedere a Putin Dove è il suo posto Putin Si è girato Verso Cina Ha trovato lì Il suo posto Dove tra l'altro C'era sempre Mercato cinese E ha dimostrato A noi All'Occidente Il suo di dietro Spenendo il gas E facendo sì Che aumentano i prezzi Adesso lui tra l'altro Guadagna di più Perché vende Meno gas A più prezzo Il gas Che non gli piace Che lì Secondo lui Non deve tenere Lui lo brucia anche Tanto chi se ne frega Ce l'hanno tanto E noi siamo qui A discutere su queste cose Così I supermercati tedeschi Hanno tolto la Coca Cola E un'altra cosa Un'altra notizia Simpatica Con la quale chiudo In Inghilterra Per risparmiare Su energia elettrica Sarà vietato Preparare cibo Prima delle ore 20 Quindi in inglese In inglese Sono tutti precisini Alla inglese Hanno detto Ah L'energia elettrica Costa Quindi cosa facciamo Vi chiamo All'inglese Di preparare il cibo Prima delle ore 20 Quindi in inglese Non si potrà Preparare il cibo Prima di ore 20 Mangeranno dopo I pub Verranno chiusi Alle ore 21 Quindi gli inglesi Dovranno mangiare Dalle ore 20 A 21 Quindi non sarà un bordello Dalle ore 20 Mangiare Poi veloce veloce Girare al pub Per fare un giro di birre Perché non hanno staccato L'energia elettrica E tornare indietro Sarà una vita Molto frenetica In Inghilterra Per via di queste sanzioni Simpatiche Che hanno fatto la Russia 60% delle fabbriche britanniche Smetteranno di lavorare E saranno costretti a chiudere Se il prezzo dell'energia Continuerà a crescere Prezzo continuerà a crescere Questo non lo dice Propaganda di Putin Questo dice Agenzia Bloomberg Che ha intervistato Una struttura Che si chiama Make UK Che si occupa Di industria E di tutte le robe In Inghilterra Quindi Cari amici Le notizie sono così Bisogna fermare Il più presto possibile Queste sanzioni Instaurare un rapporto Normale di diplomazia Con la Russia Ricominciare Un rapporto pacifico Con la Russia Insieme Cercare di risolvere La questione ucraina La questione ucraina E soprattutto Instaurare Di nuovo Le forniture Di gas Dalla Russia Perché Senza Il gas russo Noi non andiamo Da nessuna parte E tutte le fantasticherie Che ci raccontano I nostri politici Che ci raccontavano I nostri politici In questi sei mesi di guerra Ma noi creiamo alternative Noi qua ne va Sono tutte balle Cari amici Tutte balle Noi non abbiamo Nessun tipo Di possibilità Di sostituire L'energia Che otteniamo Dal gas russo Adesso E da adesso In cinque anni Con qualcos'altro A noi serve quello E quindi Prima di Fare spadaccini I nostri politici Dovevano pensare Due volte Ma non pensano Perché i nostri politici Sono dei fantocci Guidati Dalle oligarchie Statunitensi Anche per questo Noi italiani Dobbiamo mettersi insieme Dobbiamo Ricordare Che noi siamo Una società Reale Compatta Fatta di persone Di individui Che sono in grado Di comunicare Siamo persone pacifiche Dobbiamo fare Tutta Tutti I nostri Attività In maniera pacifica Per la pace E dobbiamo Ripacificarsi Con i russi Quindi Viva la Diplomazia Cari amici Grazie per essere Stati qui con me Vi invito Di seguirmi Su Instagram Facebook Youtube Su Youtube Mettete pollice in alto Che è un pannellino Così vi arrivano Le signalazioni Quando io carico Nuove video E per favore Seguitemi su Telegram Perché lì pubblico Tantissimi video Tantissimi materiali Che arrivano Dalla guerra Ucraina Che arrivano Dalla Russia Che arrivano Anche dal resto Del mondo Materiali che non posso Pubblicare Nei social Sovrecetati Perché purtroppo C'è una sorta Di censura Sia su Facebook Che su Youtube Quindi alcuni video Non posso condividere Su questi social E sono molto interessanti Perché fanno parte Delle notizie Importanti Sulla guerra Su geopolitica Quindi seguitemi Anche su Telegram Vi mando un forte abbraccio Sovrecetati Sovrecetati